Il decreto del Presidente del Consiglio attribuisce formalmente al Presidente di Regione e quindi avviene per tutte e venti le Regioni il compito di commissario per l'emergenza umanitaria sulla vicenda che ben conosciamo dell'Ucraina e dell'accoglienza dei profughi. Vi sono tre compiti fondamentali per il commissario e quindi per il sottoscritto che sarà caduato dall'assessore alla protezione civile Monia Monni e dalla struttura del Dipartimento regionale della protezione civile. I compiti sono quelli di seguire una prima accoglienza che non trova più spazio in quello che è la spontanea accoglienza o in quello dei CAS organizzati dalle prefetture. Una prima accoglienza che noi orienteremo verso quelli che chiamiamo gli alberghi di prima accoglienza per differenziarli dai compiti di alberghi sanitari che svolgono la loro funzione sul Covid. Il secondo compito è quello dei trasporti che progressivamente cureremo perché all'interno della regione le ucraine che possano arrivare devono avere anche condizioni agevolate per potersi muovere per questioni di lavoro, per questioni di permanenza, di contatto con la famiglia. La terza grossa questione è la questione della sanità. Noi organizzeremo tutto questo attraverso riunioni periodiche che teniamo tutti i giorni. La prima l'abbiamo avuta stamani. Il primo obiettivo è individuare per ora a Firenze e poi a Firenze e in una località della costa. Sceglieremo bene se è Pisa o Livorno, ma avverrà in una seconda fase. Intanto partiamo con Firenze. Un punto di riferimento che possa essere il front office anche per gli ucraini che arrivano con loro mezzi e che vogliono come dire uno sportello di informazione o di capacità di essere seguiti poi in quello che sono tutto ciò che è necessario per sistemarsi qua in Toscana. Lo stiamo valutando. Ci sono tre ipotesi alla fortezza da basso. Una prima ipotesi che stiamo considerando. Una seconda ipotesi che è quella di poter coniugare alla Merca per la funzione dei beni con quella dell'accoglienza. Una terza ipotesi che stiamo verificando e che potrebbe essere quella giusta a Santa Rosa, ovvero nel presidio sanitario. Questo perché ci possa essere un punto di riferimento fisico in cui gli ucraini possano trovare anche quella indicazione sulle procedure da seguire nel momento in cui arrivano qua. Vi è tutta la parte sanitaria su cui seguirli. Per questo il nostro direttore della sanità ha già elaborato una circolare con la quale si precisa quello che è subito il tampone da fare. Le vaccinazioni. Non sarà solo una vaccinazione Covid, ma la vaccinazione contro quelle patologie. Penso alla rosolia, al morbillo e tutte altre vaccinazioni che noi non ci accorgiamo più di avere ma che abbiamo da tutto il periodo in cui la prevenzione sanitaria le ha messe a regime. Vi è naturalmente accanto a questo poi tutto il capitolo che è quanto riguarda le persone che vogliono lasciare qualcosa, beni, i viveri, perché possa essere trasportato in Ucraina o comunque nei campi profughi a margine dell'Ucraina. Questo aspetto qui per noi è un compito, diciamo così, di informazione. In realtà è la rete del volontariato che con la comunità ucraina sta organizzando e spontaneamente portando con mezzi che poi vengono affittati da quello o quell'altro benefattore i beni su in Ucraina. Grazie.